Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike 94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di nuovo Football Manager 2017 con il nostro mitico Chievo, fa stranissimo dirlo ma succede sempre questo Con le nuove carriere e oggi andremo a vedere la gestione degli allenamenti, la gestione dello staff e la gestione delle giovanili Per quanto riguarda la tattica invece ragazzi lo vedremo nei prossimi episodi anche perchè sono ancora indeciso Molti di voi mi hanno consigliato di usare un 442 o un 4231, io vi dico che ci penserò anche perchè molto dipende dal mercato cosa ci offre Perchè se riusciamo a trovare buone ali potremmo puntare sul 4231, se non riusciamo a trovare ali potremmo anche fare un 442 a rombo Modulo che io non ho mai utilizzato e che andrebbe a valorizzare tantissimo Birsa visto che è un trequartista centrale Non lo so ancora, ripeto vedremo molto cosa ci offre il mercato Però oltre ciò volevo veramente ringraziarvi per tutti i like, per tutti i commenti che avete lasciato sull'ultimo video Cioè il primo di questa carriera per chi non l'avesse visto è il precedente a questo Veramente grazie, grazie mille però anche qui sotto voglio una marea di commenti e di consigli E bombardate anche questo video di like e vi ringrazio di nuovo infinitamente Volevo anche aggiungere che sto studiando in questi giorni la rosa e il mercato E quello che voglio dirvi è che ci sarà una vera e propria rivoluzione in questo Chievo Perchè cercherò di vendere molti giocatori anche alcuni che avevo detto che saranno i titolari Quindi mi raccomando non perdete i prossimi episodi perchè saranno pieni zeppi di mercato Ripeto, cercheremo di fare il massimo per questo Chievo per migliorarlo, svecchiarlo e portarlo alla gloria O almeno lo spero La prima cosa di cui andremo a parlare in questo video sono i membri dello staff Anche perchè è l'ultima cosa che stavo studiando e modificando prima di registrare questo video Allora ragazzi quello che voglio dirvi è che non farò una vera e propria rivoluzione nello staff Perchè? Perchè se noi andiamo a rescindere il contratto di uno di questi I soldi che noi daremo a loro come rescissione del contratto ci verranno tolti dal budget trasferimenti Quindi noi già abbiamo solo 3 milioni per rivoluzionare una rosa Se poi lo andiamo anche a diminuire sarebbe poi veramente una follia E poi vabbè non lo faccio perchè sono comunque tutti tutti molto validi O comunque validi per una squadra come il Chievo Ho fatto solo qualche piccolo accorgimento Ad esempio come potete ben vedere la squadra Under 20 ha 3 fisioterapisti Invece la prima squadra ne ha solo uno Allora per sicurezza ho rinnovato il contratto al migliore fra questi 3 Cioè Folletto E io ho rinnovato il contratto diminuendo l'ingaggio Quindi da 120 a 115 mila euro lo so che non sono niente Però sempre 5 mila euro sono E poi l'ho diciamo promosso a fisioterapista di prima squadra La seconda e ultima cosa che ho modificato fra i membri dello staff Sono gli osservatori Infatti noi abbiamo osservatori molto validi Ma abbiamo una ristretta conoscenza dei vari campionati mondiali Infatti conosciamo solo l'Italia grazie appunto a noi e ai vari osservatori che abbiamo La Cina grazie alla Cremonese, il San Marino grazie a Gian Mario Specchia E l'Inghilterra sempre grazie alla Cremonese Quindi che cosa ho fatto? Sono andato a cercare tutti i vari osservatori svincolati che non hanno una squadra E ho visto in primis quelli meno costosi Perché ragazzi ce ne sono un casino che ti chiedono una barca di soldi Addirittura anche 600 mila euro E poi che soprattutto avessero una conoscenza abbasta della regione Vabbè insomma del mondo Dei vari campionati mondiali Che è la cosa più importante Ne ho presi solo due che però hanno diverse conoscenze Non sono proprio degli osservatori super di quinto livello Però sono diciamo di un livello medio-basso Ma vi ripeto non ho voluto spendere tantissimo Perché come potete ben vedere già il Montengaggi è sceso Se prendevamo molti osservatori e soprattutto molto costosi Avevamo 0 euro e non potevamo fare poi molto mercato Non possiamo fare la rivoluzione che tanto vogliamo Ho preso Ulf Kirsten Che tipo si prende 50 mila euro o massimo No 50 mila euro E devo dire che non è male Per quanto concerne gli osservatori Voi dovete dare un'occhiata ad abilità e giudizio potenziale E lo so che non è un mostro sacro fra gli osservatori Però vi ripeto prende solo 50 mila euro Conosce il campionato tedesco che è molto molto importante E poi vabbè campionato austriaco, svizzero e polacco Che comunque schifo non fanno Può esserci veramente molto utile Anche perché poi ripeto gli altri osservatori che abbiamo già in squadra Diciamo sono tutti molto molto validi Il secondo che abbiamo preso diciamo è leggermente migliore Perché ha una buona adattabilità Ha un buon giudizio potenziale E vabbè un giudizio abilità sul 10 Che comunque non è proprio il male assoluto Però la cosa molto importante è che conosce il campionato portoghese Il campionato brasiliano Il campionato argentino E il campionato francese Quindi tutti e quattro campionati che ci possono essere molto molto utili Quindi proprio per questo l'ho preso Perché veramente può essere utile alla causa E soprattutto scoprire giovinastri Brasiliani e argentini Potrebbe essere veramente il top Detto ciò direi che possiamo andare a parlare dell'allenamento Io lo rispiego passo dopo passo Sia per chi non ha mai giocato a Football Manager Sia per chi non ha mai visto dei miei video Dove spiego appunto l'allenamento che faccio Dico prima di iniziare che questo è l'allenamento che uso io Non è per forza il migliore Però io sono anni che uso questo metodo E mi trovo bene insomma I risultati ci sono Ovviamente tutti voi potete avere dei metodi diversi Non ce n'è uno migliore e uno peggiore Se voi vi trovate bene col vostro ed è funzionale Mi fa piacere per voi Io mi trovo con questo E amen Però voglio prima dire che Gli allenamenti individuali non li ho ancora impostati Per i vari giocatori Perché voglio dire in primis chi vendiamo e chi teniamo E soprattutto poi anche in base alla tattica che utilizzeremo Perché secondo me Cioè non secondo me Anche la tattica influisce molto poi Sull'allenamento individuale di ogni singolo giocatore Almeno io così Faccio Metti puntini sulle i Perché poi non voglio critiche qui sotto Per quanto concerne i preparatori Allora ho messo Roberto De Bellis Prima era anche su aerobico E l'ho tolto e ho messo solo forza E poi ho messo Ivan Moretto Che gestisce sia tattica che controllo palla Perché prima lo faceva Tonelli Ma Tonelli Poi aveva due stelle e mezzo per difesa Io voglio invece che Almeno in tutti i reparti Ci siano tre stelline di Diciamo capacità Ecco capacità del preparatore E comunque così non mi sembra affatto male Appunto in tutti i reparti abbiamo tre e più stelline So che può migliorare Ma semmai lo faremo l'anno prossimo Sto cercando poi dei preparatori che Soprattutto ad esempio la tattica Che appunto possa dare una mano In questo caso a Ivan Moretto E aumentare le capacità e le qualità Del allenamento Però per il momento credo che Essendo il Chievo Essendo il primo anno Può andare più che bene Non voglio spendere altri sordi Per altri Altri Membri dello staff Per quanto invece concerne L'allenamento generale di squadra Io che cosa faccio? Almeno tre o quattro settimane Prima ovviamente dell'inizio del campionato Butto tutto su forma fisica Perché ovviamente i giocatori dopo La pausa estiva Tornano appunto in condizioni pessime Quindi faccio almeno tre o quattro settimane Poi dipende molto anche dal tempo che intercorre Fra la fine delle vacanze E l'inizio del campionato Faccio focus principale Forma fisica Sempre media Perché se buttate sull'alto C'è il rischio di infortuni Forma fisica Poi ragazzi Se vado a cambiare la tattica Come in questo caso Che siamo passati da un 4-4-2 A un 4-3-3 Faccio almeno una settimana Fra appunto le vacanze Il campionato L'inizio del campionato Una settimana di tattica Perché secondo me è molto importante Appunto che la squadra inizi a capire I vostri schemi di gioco In più poi Se voi rivoluzionate la rosa Un po' come faremo noi col Chievo Quindi aggiungete molti volti nuovi alla squadra Faccio sempre Vi consiglio di fare almeno Una settimana di affidamento squadra Così la squadra si unisce Diventa più coesa E quindi giocherà sicuramente meglio Dopo tutto questo periodo Poi quando inizierà appunto il campionato Butto tutto su bilanciata Perché secondo me è la cosa migliore Quindi durante le varie partite di campionato Metto sempre su bilanciata Poi se c'è la pausa nazionale O comunque se c'è una piccola pausa Dove i giocatori perdono la forma fisica Vi consiglio di rimettere forma fisica Soprattutto poi nel periodo natalizio Comunque quando ci sono pause nazionali O pause in generale Dove i giocatori perdono di parecchio la forma Io vi consiglio di buttarla a bomba qui Io credo che sia la cosa migliore Un'altra cosa che non c'entra molto con gli allenamenti Però intanto metto forma fisica Se no me lo dimentico E che vi consiglio sempre Prima che inizia il campionato Di fare almeno 5 o 6 amichevoli 5 vanno più che bene Se ne fate 6 ancora meglio Perché ragazzi? Perché comunque la squadra inizia a imparare la tattica Prende sicuramente forma fisica Giocare è la forma migliore Per prendere la forma fisica Poi giocando insieme Appunto aumenta ancora di più la coesione Quindi assolutamente ragazzi Vi consiglio questo fatto Di organizzare almeno 5 o 6 partite Noi proveremo a farlo già Prima del 14 agosto Perché c'è una partita importante di Coppa Italia So che non sarà con una big assoluta Però comunque è un impegno importante Da non sottovalutare E quindi sicuramente noi Prima di questa faremo 5 o 6 amichevoli Semmai 5 Anche 4 Visto che è così vicino Siamo al 14 d'agosto Noi le vacanze finiscono mi pare il 12 L'11 Vediamo subito Finiscono l'11 Quindi abbiamo pure poco tempo Semmai ne facciamo 3 adesso Poi facciamo la partita di Coppa Italia E poi ne facciamo un altro paio Questa con la Cremonese Anche se purtroppo è 3 giorni prima Della partita col Cagliari Semmai anche un'altra Vediamo un po' anche i tempi che ci abbiamo Sono molto molto ristretti Possiamo vedere che appunto c'è l'Atalanta E poi abbiamo la partita di Coppa Italia Però vabbè nel mezzo possiamo mettere Altri 1 o 2 amichevoli E poi c'è la partita con la Cremonese E poi col Cagliari Quindi mi sa che almeno 3 partite Ma anche 4 prima della Coppa Italia Vanno fatte Questa è una cosa in più Che vi consiglio sempre Da fare Di fare Ovviamente ragazzi Se non è chiaro qualcosa Scrivetelo qua sotto nei commenti Io sarò ben felice Di spiegarvelo Detto questo direi che possiamo andare a vedere Le giovanili Io anche qui Per quanto ci sono alcuni giocatori Veramente imbarazzanti Che hanno un potenziale Veramente tanto tanto basso Non vado a rescindere nessun contratto Perché ad esempio Ho visto che rescindere Questi 4 giocatori Ci verrebbe a costare 150.000 euro Lo so che non sembrano poi Così tanti Però preferisco Se decidiamo di farlo Farlo a fine mercato Dove vediamo Che abbiamo questa disponibilità Se no è meglio Lasciarli in squadra Perché tanto si prendono 13.000 euro a testa Non è chissà quanto Per quanto riguarda Quest'under 18 Ci sono ottimi giocatori Ne abbiamo ben 5 in prestito Questi 4 Sono da visionare Non hanno il diritto Di riscatto Però possiamo contattarli Per l'ingaggio E quindi poi Fra virgolette Riscattarli Sono comunque Validi Hanno un buon potenziale Quindi in teoria Dobbiamo visionarli Vediamo un po' Cosa fanno In quest'under 18 E poi decideremo Del loro futuro Ancora più importante È l'under 20 Ragazzi In primis perché Ci abbiamo una caterva Di giocatori Che abbiamo mandato In prestito Molti giovani E anche noi Infatti mi avete detto Di dare un'occhiata Da pre là Noi non lo possiamo Richiamare dal prestito Ci abbiamo anche Sestu Ci abbiamo anche giocatori Che assolutamente Poi l'anno prossimo Dobbiamo vendere C'è da pre là Che devo dire la verità Ho fatto pure rima Non mi dispiace Cioè se l'avessimo avuto Quest'anno Non mi avrebbe fatto schifo Anche se comunque Prende un bel Ingaggio Quindi molto probabilmente Poi l'anno prossimo Lo venderemo Sempre se il Bari Non lo riscatta Perché ha un diritto Di riscatto A 1,3 Se ce li da Possiamo anche andare A festeggiare Con nostri E champagne Comunque Veramente c'è Una lista abnorme Di giocatori in prestito Che poi ovviamente Valuteremo L'anno prossimo Perché quest'anno Poco ci possiamo fare Quello che voglio dirvi È che comunque Anche qui Troviamo giocatori Molto molto validi Ovviamente vi consiglio Anche voi Nelle vostre carriere Di dare un'occhiata Nell'under 20 Nell'under 18 Perché potrebbero esserci Giocatori già buoni Per la rosa Principale Diciamo che qui Non ci sono Grandissimi giocatori Per appunto Fare il salto Di qualità In campionato Però secondo me Ci sono tanti giocatori Da tenere d'occhio Perché hanno un potenziale Incredibile So che siamo il Chievo Quindi un potenziale 5 stelle Qui A un Barcellona A un Milan A una Juve Potrebbe essere Un potenziale di 3 stelle Però Ragazzi Comunque un potenziale Di 3 stelle Buttalo via Soprattutto per il Barcellona Poi vabbè La Juve Eccetera Però insomma Dobbiamo tenerli d'occhio E quello che voglio fare Lo farò in off screen Però Lo dico Qui Vi spiego quello che farò Voglio mandare in prestito I giocatori Giovani In primis Che hanno un buon potenziale Quindi per farsi Le ossa Ma soprattutto Cosa un po' Utile Non tanto al giocatore In sé Ma alla società Manderò in prestito I giocatori Che chiedono Che hanno un contratto Veramente importante Come c'è questo Bastieno Questo Troiani Questo John Miranda Questo Fabio De Paoli Che si Molti di voi Penseranno Potrei utilizzarlo In prima squadra Ma Non credo proprio Mi conosco Quindi Non li userò Quindi semmai Sarebbe utile Mandarli in prestito Di sparmiare i soldi Perché ragazzi Comunque Se mandiamo via Solo questi 4 Sono 100.000 135.000 185.000 E 85.000 Sono almeno 500.000 euro Circa Che andiamo a risparmiare Quindi sarebbe Un giocatore In prima squadra Quei soldi Potremmo prendere Uno svincolato Che chiede 500.000 euro Che sarebbe poi utile A una prima squadra Quindi C'è Ha un senso Quello che Andiamo a fare Quindi molto probabilmente Questi 4 Li manderò via In prestito A farsi le ossa Semmai se riesco anche A mettere qualche bonus Tipo Bonus mensile Cioè comunque Tu chiedi Il 100% Dell'ingaggio Più Semmai Dei soldi in più Che ti danno mensilmente E questi soldi Vanno poi Ad influire Nel budget trasferimenti Quindi sono Sia soldi in più Per i trasferimenti Sia soldi in più Per il monte ingaggi Quindi Mica pizze fichi E in pratica Questo andrò a fare E speriamo di riuscirci Speriamo che Qualche squadra Ci dia I soldi Appunto Per questi Giocatori Prima di Salutarci Però Voglio farvi vedere Altre due Novità Di questo Football Manager 2017 La prima È inerente Ai prestiti Infatti Come potete Ben vedere In primis Ci sono tante Clausole nuove Da poter Aggiungere Ma poi C'è questa cosa Carina Perché In primis Si può chiedere La percentuale In gaggio Se gioca E la percentuale In gaggio Se non gioca E questo è Molto molto Buono Perché Se voi mandate Un giocatore Che volete Far crescere Che volete Che giochi Nella squadra Che mandate Potete ad esempio Chiedere un 50% Nel caso Che gioca Invece Il 100% Nel caso Che non gioca E questo ovviamente Invoierà la squadra A farlo giocare Il titolare Perché se no Deve pagare Di più E lo stesso Vale Per l'indennizzo Perché se voi Ad esempio Dite alla squadra Che mi dovete dare Tipo 100.000 euro Al mese Se il giocatore Non gioca Ovviamente Anche in questo caso La squadra Che lo prende In prestito È interessata A farlo giocare Questa è una cosa In più Una cosa carina Una cosa però A cui dovremo Dare attenzione Nel caso Vogliamo prendere Un giocatore In prestito E quindi Nel caso Poi non lo facciamo Giocare Sicuramente Dovremmo dare Dei soldi In più L'unica cosa Non molto chiara È cosa significa Farlo giocare E non farlo giocare Più che altro Quante partite Deve giocare Per appunto Rispettare Il contratto Questo non mi è Molto chiaro Ad esempio C'è Pasalic Nel Milan Che tipo Il Milan Deve dare Un milione Di euro Al Chelsea Dopo un tot Se non fa un tot Di partite Questo è Il succo E diciamo Che qui Non è molto Specificato Però Sti cazzi Cioè Non tanto Sti cazzi Però Che ci possiamo fare Un'altra seconda cosa Carina Sono le promesse Che si possono fare Ai giocatori Cioè Prima di ingaggiarlo Voi potete fare Delle promesse Per diciamo Invoiare Il giocatore stesso A venire Nella vostra rosa Quindi che ne so Delle punizioni Pagherà Si pagherà Poi il corso Da preparatore Si può nominare Rigorista Si può dire Che sarà capitano Eccetera 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 Una volta fatto ciò Finalizzate le promesse Se il giocatore accetta Poi il giorno dopo Inizierete ad intavolare La trattativa Che poi la trattativa È uguale appunto Ai giochi precedenti Questa è una cosa in più Una cosa carina Una cosa che assolutamente Non facilita L'acquisto dei giocatori Perché alcuni hanno detto Eh con le promesse Sarà molto più facile Il cavolo Perché poi voi dovrete In primis Rispettare le promesse E poi i giocatori Vi possono chiedere Promesse importanti Tipo appunto Pagare il corso Da preparatore Nominarlo capitano Quindi poi In questo caso Pelissie Sarebbe scontento Quindi non sono cose Da prendere Sotto gamba Anzi Sono cose Molto molto Importante Poi vabbè Non vi dico Caseres Quanto chiede di ingaggio Perché Vi spaventereste Detto ciò ragazzi Io credo che il video Possa concludersi qui Ovviamente nel prossimo Già Inizieremo a parlare Di mercato Vorrei farlo Molto più velocemente Rispetto a che ne so Il primo mercato Che ho fatto Col Wigan O con altre squadre Quindi molto Vedrò da me Poi vi farò vedere Le varie cose Che faccio Passo passo Come faccio Diciamo sempre E niente ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Soprattutto spero che questo video Vi sia utile Per le vostre carriere E come sempre Un saluto da Mike94 Ovviamente commentate a bomba Condividete Mettete un sacco Un sacco di mi piace Ovviamente anche un saluto Da Football Manager Italia Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi